Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non voglio poter rispetto, però io l'altro più rispetto a un cristiano, c'è dire che la c'è l'altro. Perchè ho avuto l'età di 17 anni, un sogno che ha presso a dire, che ha presso il tuo frate. Ci sono sempre un uomo frate, tu sai, povero non usano una campanella a lunedì e due notti. Dottomia, a mia casa, non faccio mai rispondere a me, perché dicevo che non ci sono. Non c'è l'altro, non c'è l'altro, non c'è l'altro, non c'è l'altro. Come ora succede questo stop? Che vinde, che bestia vinde prima, e allora si è andato a parte. Capisci? No, vieni a casa, vieni a casa, ora ho via, per via io, diciamo, ma non devo fare. Grazie a tutti.